Ciao a tutti amici di un film a settimana Per poter analizzare il prossimo film ho bisogno prima di tutto di una camicia bianca Di una cravatta nera Di una semplice giacca E di un paio di Ray-Ban stile anni 80-90 Il film di cui parliamo questa settimana è Le Iene del 1992 Diretto da Quentin Tarantino Prima di incominciare guardiamoci insieme il trailer Ecco i vostri nomi Mr. White, Mr. Blond e Mr. Pink Perché io sarei Mr. Pink? Che ce ne frega del nome Già per te è facile, tu sei Mr. White, hai un nome da tipo forte Mettiamoci al lavoro Che succede se il direttore non consegna diamanti? Se ti serve un'informazione e non te la dà, gli tagli via il dito Il mignolo Ma hanno dato retta Se non avessero fatto di testa loro, sarebbero ancora vivi Ti comporti come un lato di pollo, io sono un professionista Cioè, se devo scegliere fra te e dieci anni di galera Non ci penso un attimo a spedire Uno stronzo al creatore Va! Sei in order? Dolcezza! Le Iene è la dimostrazione che un'idea originale, non banale, un'idea vera Può portare alla realizzazione di un capolavoro cinematografico a basso costo Nel 92 scoppia Tangentopoli Poi la strage di Capaci E viene inviato il primo SMS della storia Ma il 92 è l'anno in cui i cinefili appassionati di cinema forte Di cinema duro, di cinema violento e allo stesso tempo divertente Hanno a che fare con qualcosa del tutto innovativo Lo stile Tarantino Con le Iene Tarantino inizia la sua carriera da regista Mettendo subito in risalto le caratteristiche principali del suo cinema 105 minuti di violenza, di dialoghi volgari La parola fanculo viene ripetuta 252 volte E poi ancora sparatorie, torture, tradimenti e sangue Tutto questo viene unito ad un montaggio caratterizzato da una cronologia frammentata Tipica del cinema di Tarantino Los Angeles Un malavitoso di nome Gioca Bot Insieme al figlio Eddie il Bello Raggruppa sei professionisti Per fare un colpo ai danni di un grossista di diamanti La vicenda quindi narra la storia di sei rapinatori anonimi Ad ognuno di loro verrà affidato un nomignolo E la prima regola è proprio quella di non svelare niente su se stessi E niente della propria vita privata Tarantino ci racconta la vicenda della rapina attraverso vari punti di vista Che poi rappresentano il vissuto ma soprattutto il pensiero dei sei protagonisti Qualcuno però mente Non è un rapinatore professionista Ma è una spia È un poliziotto infiltrato Che farà di tutto per evitare la rapina Ma soprattutto per arrestare il boss malavitoso Non vi svelo però il finale del film Anche perché credo che la maggior parte di voi già lo conoscono Voglio quindi dedicare la puntata a uno stile tarantiniano Il film in Italia viene vietato ai minori di 18 anni Proprio per la violenza di alcune scene La violenza in questo film A differenza dei film successivi di Quentin Tarantino Ad esempio Kill Bill Viene utilizzata in un modo molto meno cinematografico Ma molto più realistico Gianni Nondolino però Uno dei più bravi scrittori cinematografici italiani Dichiara che il film Leiene Addirittura dopo 20 anni dalla sua uscita Riesce ancora a stupire lo spettatore Non per le scene violente Per la costruzione narrativa che ha Il budget del film fu bassissimo Infatti alcuni attori Furono costretti ad utilizzare I vestiti del proprio guardaroba Quello che si nota di più È sicuramente il loggiubborto dell'attore Che interpreta Eddie il Bello Gran parte del denaro del film Infatti è servito solo per l'acquisto dei vestiti dei protagonisti E per i loro accessori Tra cui le pistole e gli occhiali Può essere considerato un film a basso costo Anche perché Leiene è stato girato quasi interamente in un capannone Un capannone che non è nient'altro che un depotito di pompe funebre Infatti l'attore Michael Mannes Colui che rappresenta Mr. Blonde nel film Ad un certo punto si siederà proprio su un carro funebre L'automobile di Mr. Blonde Una vecchia Cadillac È una macchina appartenuta realmente all'attore Michael Mannes Analizzare un film di Tarantino Soprattutto per quanto riguarda le curiosità È quasi impossibile Tarantino è il regista, sceneggiatore, soggettista E addirittura attore del suo film Tarantino però non è soltanto un regista Ma è un vero e proprio cultore del cinema La sua cinefilia è maniacale Conosce qualsiasi tipo di film Analizza qualsiasi tipo di stile cinematografico Ed è proprio per questo che Quentin Verrà considerato come una sorta di lago Una sorta di citazionista Una sorta quindi di regista Capace di mettere in scena Vari stili per creare il proprio stile Quello appunto tarantiniano Infatti come spesso accade nei film di Tarantino Anche nelle Iene ci sono tantissimi collegamenti ad altre pellicole Sicuramente non riesco a citare tutti i vari collegamenti Che ci sono tra le Iene e altri film Ma la più importante è quella che secondo me Rappresenta anche la scena forse più violenta del film E' quella dove l'attore Michael Madsen Taglia l'orecchio di un poliziotto La scena è stata ripresa da un film giapponese Di Shogun Assassin Ed è anche un vero e proprio riferimento Al film di Sergio Corbucci del 1961 Django Considero le Iene un film anomalo Troppo originale E credo che sia più facile vedere Che analizzare un film del genere Vi lascio la visione del film Con un commento di Jamie Bernard Una delle critiche cinematografiche più importanti in America Non penso che il pubblico fosse pronto Il pubblico non sapeva cosa fare con le Iese Fu come la prima volta che venne proiettato il primo film muto Le persone si spaventarono e uscirono dalla sala Quando videro arrivare il treno vicino alla telecamera Buona visione Grazie a tutti